Wow! Buon compleanno! Ehi, chi ha mangiato la torta? Il clown! Non ci credo! Aspetta, cosa? Era davvero il clown? La lezione di matematica è in pieno svolgimento. Miss Bloom è in lunatica, come al solito. Ahah, di nuovo in ritardo! Povero Michael! Miss Bloom mi darà sicuramente una lezione. Ma non mentirà. Dirà semplicemente la verità. Si è svegliato qualche ora prima della lezione, come al solito. Ogni mattina è come se fosse Natale. È così entusiasta di andare a lezione e imparare cose nuove. Ma tragicamente c'era un ragno radioattivo. E ha morso Michael. Prendi il cuscino! È proprio come nei film. Michael è diventato Spider-Man. Guardi cosa riesco a fare. Questo e questo. Guardate! Ah, stai scherzando? Che razza di assurdità è questa? Scendi dal tavolo, subito! E se facessi questo? Si sieda, Miss Bloom! Visto? Santo cielo, che è successo! Michael è davvero Spider-Man! Suppongo di poter scusargli il ritardo oggi. I viaggiatori senza documenti inventano ogni sorta di storie. Ma credo che quella di questo ragazzo sia la sua prima. Niente passaporto? Non si entra! Ma Martin ha avuto una mattinata pazzesca. È partito da casa. Emozionato per le vacanze e di fretta. Doveva andare all'aeroporto. Ma voleva anche fare uno spuntino. Ma questo Doberman ha rovinato tutto. Ehi, ridammelo! Niente sfuggi a Michael. Questa storia puzza come una grande bugia. Niente passaporto, niente ingresso. Ma Martin ha le prove. No, il mio passaporto è nello stomaco del cane. Controlla tu stesso. Michael può farlo. Il suo super scanner può vedere tutto. Bene, cosa abbiamo qui? Vorrei non aver guardato. Il cane ha davvero mangiato i documenti. E ha scannerizzato il passaporto. Quindi deve far passare Martin. Oh, Michael odia questo lavoro a volte. Quando il tuo partner porta a casa tanti pesci, devi trasformarti in uno chef professionista. Ma Kylie non si aspettava questo. Oh, oh, Michael è in guai seri. È questo il tipo di pesca che fai? No, no, non è come pensi, lo giuro. È andata così. Michael stava cercando un posto per pescare. Quando all'improvviso... Sì, sì, c'era una sirena. Era sdraiata sulla riva. Stava soffocando. Dovevo salvarla dalla disidratazione. E ha dimenticato alcuni dei suoi vestiti, credo. Ma non volevo lasciarlo lì. Kylie ovviamente non crede a una parola. Queste sono le parole di uno sporco imbroglione. Ora tutto puzza di pesce. Aspetta, di chi è questa mano? Si è presentata la proprietaria dei vestiti? Sì, un attimo, te lo prendo. Non sapevo che le sirene vivessero nelle foglie. Quindi era vero. Michael, dove sei andato? Mi dispiace! Alcune persone sono molto diffidenti nei confronti della pubblicità. Come Michael, per esempio? Pelle, biscotti! Non siate ridicoli! Profumi come quelli non esistono! Ma questo annuncio suggerisce il contrario. Il profumo è prodotto in questo modo? Non potrebbe accadere senza i veri biscotti. Un piccolo dessert, l'amore per lo sport. Eccolo qui! Il segreto di un armonioso duetto di pelle e biscotti. Annusa Hux! Michael non ci crederà finché non lo annuserà. Wow! Puzza davvero di pelle e biscotti! Immagino che l'annuncio non mentisse per una volta. Candy si inquieta. Dov'è Ewald? Non riesco a raggiungerlo. Oh, ecco il buffone! Mamma non è in vena di ascoltare le sue spese. E la storia sembra ridicola, per usare un eufemismo. Ewald parla di una specie di invasione aliena. Camminava per strada, felice per il suo nuovo telefono. Quando, all'improvviso, sono apparsi. Gli alieni sono conoscitori della bella tecnologia. Ma non rapiscono le persone. Prendono i telefoni nuovi di zecca. Ecco perché era in ritardo e non poteva nemmeno chiamare la sua mamma. Candice non lo ascolta più. Bel tentativo! Sei in punizione per un mese! Ah, devo calmarmi! Aspetta, cos'è questo? C'è un nuovo post sul blog di Ewald. Ma non è da lui, sono... Alieni! Ewald, avevi ragione! Il tuo blog è stato rapito! Michael è tornato dal college. Ma sua madre ha capito che qualcosa non andava. Senti l'odore del cattivo comportamento da un miglio di distanza. Perché puzzi di fumo? Hai saltato le lezioni per un barbecue? Oh no, ecco! Michael stava tornando a casa. Quando, all'improvviso, c'è stato un incendio! Non si può passare davanti a un disastro del genere. Doveva aiutare. Ha sentito una bimba intrappolata nella casa in fiamme. E Michael è corso a salvarla! E non appena la bimba fu al sicuro, tornò a casa. Michael, vuoi che ti creda? Aspetta, chi c'è qui? Giornalisti televisivi? Un'intervista su un eroe coraggioso! Che sorpresa! E consegnano un encomio per il salvataggio! Michael, sono così orgogliosa di te! Mi dispiace di aver dubitato di te! Il ragazzo di Mary è in ritardo oggi. E avevano intenzione di andare al cinema! Eccolo! Dove sei stato? Cos'è questo bel vestito? Sei solo un fattorino della pizza! A quanto pare, Michael ha avuto fortuna oggi! Ha dovuto consegnare la pizza sul set di un film? No, no, no! E c'è stato il casting di un regista particolarmente esigente! Aveva rifiutato centinaia di attori per il ruolo principale! Ma quando Michael si presentò con quella pizza... Beh, era tutto finito! Il ruolo era suo! Presto sarebbe stato una vera superstar! E ha anche avuto un anticipo per il film! Ma Mary è stanca di ascoltare le sue bugie! Michael è sempre in ritardo all'appuntamento! È implacabile! Questa è l'ultima goccia! È finita, Michael! A volte la verità viene rivelata solo più tardi! Mary e l'amica vanno al cinema! Avevano visto la pubblicità di un blockbuster pazzesco! Aspetta! È Michael! Mary è senza parole! Ha davvero rotto con una superstar! Ha anche Oscar Buzz! E milioni di fan impazziti per lui! Ha persino il suo fandom! Wow, non ci può credere! Beh, la fiducia è la cosa più importante in una relazione! Ti sono piaciuti questi sketch assolutamente veri? Hai mai avuto una scusa che sapesse di bugia, ma che era completamente vera? Scrivilo nei commenti! Metti un like al video e iscriviti al canale se sei nuovo! Clicca sulla campanella per non perdere nulla di Troom Troom Wow!